Buongiorno ragazzole e ragazzole, buona domenica, finalmente il video dei preferiti del mese, questo mese è assolutamente colpa mia perché la viperina l'ha tipo già girato da due giorni, io sono due giorni che le dico adesso lo giro, adesso lo giro e poi in realtà non mi ha girato, per cui adesso mi sono ritrovata a mezzogiorno e 05, tra l'altro devo anche mangiare alla svelta perché devo poi scappare e a girare in fretta e furia questo video perché così riesco magari a metterlo entro stasera può essere, per cui devo fare praticamente un video senza tagli e devo stare attentissima, so che non ce la farò però ce la posso fare intanto saluto appunto la mia viperina che tanto verrà citata altre volte nel video, poi vedrete perché e le mando un abbraccio stritolante e un bacio gigantesco allora iniziamo subito con i libri preferiti del mese, io ho sempre questa flemma tra l'altro nei video che mi sono resa conto ultimamente vabbè, niente non so perché stavo dicendo questa cosa però mi sono accorta che sono un po' sempre esagitata dunque, il libro, il libro preferito del mese è un libro che appunto mi ha regalato la viperina che io adesso non ho perché ce l'ha giù mia mamma che lo sta leggendo ed è il centenario che saltò dalla finestra e scomparve libro che io ho tipo detto che volevo leggerlo da quando fece lei la recensione tra l'altro tantissimo tempo fa perché deve essere stata una delle primissime recensioni che ho visto fare alla viperina e niente, io continuavo a dirle, oh è bellissimo, lo voglio leggere, lo voglio leggere si vede che alla fine anche lei è stanca di sentirmi dire, voglio leggere però io praticamente non lo compravo ma non so per qual motivo sai il fatto che poi me l'ha regalato lei per il compleanno e bellissimo, è un libro che ho adorato tantissimo e ve ne parlerò meglio chiaramente nel video delle recensioni ma è stupendo, io vi consiglio di leggerlo perché è veramente divertente però anche allo stesso tempo profondo, è un grottesco insomma è un libro che mi ha colpito tantissimo come non riuscivano come... adesso mi sono incartata, volevo dire che è tanto tempo che non riesco a leggere un libro che mi colpisce così tanto, ti è, ce l'ho fatta personaggio preferito maschile del mese è ovviamente Mr. Sherlock Holmes perché ho riletto uno studio in rosso nel salotto di lettura della mia pagina Facebook e vabbè, Sherlock Holmes nel primo libro in realtà è uno spocchioso madonna Sherlock, mi spaventi quando fai ste corse è uno, come stavo dicendo, uno spocchioso testa di mh però a me piace tantissimo e sono sempre più convinta che la rappresentazione che ne ha fatto Gettis e Moffat per la serie della BBC sia assolutamente simile a quello che è il personaggio originale personaggio preferito femminile del mese invece è Beverly Penn Beverly Penn è la protagonista femminile della prima parte del romanzo che è questo, storia d'inverno di questo sempre vi parlerò nel prossimo video di letture però è un personaggio in cui mi ci sono ritrovata molto sotto alcuni aspetti, non tutti però sotto alcuni aspetti sì è un personaggio meraviglioso e mi è spiaciuto molto che nella seconda parte del libro non sia presente però non vi voglio spoilerare, per cui ne parleremo meglio nel video delle letture avrei voluto che fosse anche il libro preferito del mese però purtroppo no, capirete poi più avanti per qual motivo poi, qual'era l'altra categoria? Fumetto allora, è lo stesso fumetto del mese scorso ma semplicemente perché ho finito di leggerlo a marzo e me ne sono innamorata follemente e appena finito l'ho praticamente reiniziato a leggere ed è Preacher di Garth Ennis se non avete mai letto Preacher ve ne parlo comunque nel video dei comics che se riesco faccio questa settimana però non prometto niente dovete assolutamente leggere Preacher mi rendo conto che sia abbastanza un casino riuscire a recuperarlo in versione cartacea, recuperate i pdf non lo so, vendete l'anima al demonio però dovete assolutamente leggere Preacher perché è uno dei fumetti più belli che ho mai letto non lo paragono Sandman che nel mio personale Olimpo sta lì è inarrivabile perché è anche tutt'altro genere rispetto a Sandman di Neil Gaiman però è veramente un capolavoro e l'ho amato profondamente non ho né il saggio né la poesia mi spiace, questo mese non è che mi sono data molto a queste cose troppo intelligenti poi passiamo all'argomento filmico miglior film del mese, nuova visione allora ho visto un paio di film che mi sono piaciuti molto vi citerò 12 anni schiavo ovviamente sono riuscita a vederlo tipo appena in tempo per gli Oscar ed è un film che mi è piaciuto mi aspettavo tutt'altro sinceramente e forse proprio per questo mi è piaciuto di più rispetto a quello che magari avrei pensato mi aspettavo un film molto più drammatico che giocasse molto sui toni forti perché comunque parlando chiaramente della schiavitù e parlando di quest'uomo libero che diventa schiavo mi aspettavo giocasse molto più su questi toni molto da drammone americano invece la cosa che veramente ho apprezzato è che Steve McQueen non scivola in facili sentimentalismi e questa cosa per me è meravigliosa perché alla fine la storia dello schiavismo americano ce l'hanno raccontata tantissime volte e di solito comunque si piange parecchio perché comunque ci sono tutte queste scene stradrammatiche dicendo che non è che a me dispiacciono per l'amore di Dio però mi è piaciuto che per una volta si cercasse di non per forza schiacciare il pedale dell'acceleratore su questo tipo di scene per cui è un film che ho apprezzato molto proprio per questo motivo sono stata contenta che abbia vinto l'Oscar come miglior film visto che quest'anno gli Oscar non sono stata molto contenta e non c'entra soltanto nel handicap non sono stata contenta sotto vari altri punti di vista poi film visto e stravisto l'ho rivisto probabilmente ve l'ho già citato in un altro video perché lo riguardo sempre ed è un film che adoro follemente che è Il Club di Jane Austen cioè io quando non so che cosa fare che sono a casa e tipo voglio finire di ricamare due robe voglio leggere intanto e faccio dell'altro mi metto a guardare Il Club di Jane Austen che è un film che conosco praticamente a memoria e ci posso recitare sopra però tutte le volte mi distrae cioè io non riesco mai a ricamare o a leggere intanto che lo guardo cioè sistematicamente tutte le volte metto giù quello che sto facendo e guardo il film perché è un film sull'amore per Jane Austen ma soprattutto sull'amore per la lettura cioè l'idea di queste donne che si riuniscono per leggere Jane Austen è meravigliosa e che comunque ogni donna praticamente rappresenta un romanzo di Jane Austen cioè il libro non era così bello io l'avevo letto il libro ma vi assicuro che il film è molto molto più bello cioè è una proprio di quelle commedie che tu riguardi tutte le volte e tutte le volte comunque cioè sei contenta per il lieto fine anche se lo sai già che comunque sarebbe finito bene e è bello mi piace tantissimo poi io adoro il personaggio di Grigg perché è stupido scusa Hugh Dancy però è un personaggio meraviglioso c'è questo qua in mezzo a queste donne che si mette a leggere i libri di Jane Austen e leggeva la fantascienza cioè il mio uomo ideale e sì ho appena fatto una dichiarazione d'amore per Hugh Dancy non so cosa mi stia succedendo però niente è un attore che comunque ho rivalutato abbastanza ultimamente miglior attore del mese allora direi Michael Fassbender assolutamente perché nel 12 anni schiavo è stato strepitoso hai capito già l'edleto? strepitoso è stato Michael Fassbender tuscia tuscia maledetta e poi assolutamente Al Pacino non vi ho citato Il Padrino come film preferito del visto e stravisto perché tipo Il Padrino è capito nell'Olimpo dei film ce l'avevo anche in tesi quando l'ho riguardato mi ricordo quella sera avevamo fatto di sabato sera ero tornata dal Matova Comics mi sono messa a riguardarlo e ci recitavo sopra davvero che è una cosa sconvolgente cioè io so tre ore di film a memoria talmente tante volte l'ho visto tra l'altro era un pezzo che non lo riguardavo perché tipo per la tesi l'ho dovuto guardare 50 volte di fila se non di più per analizzare tutte le robe e cioè praticamente ho detto ok basta dopo che l'ho finito di guarda ho detto basta adesso per un po' magari non ti guardo e per cui era non dico due anni a parte che è un po' più di anni che mi sono laureata però insomma era un po' che non lo vedevo e niente finché amo profondamente in tutte le sue scene e so mentre lo rivedevo ripensavo appunto delle robe che cioè dei libri che avevo letto appunto sull'analisi del padrino e l'analisi che ne avevo fatto io insomma è bello è un film veramente strepitoso per come si è curato lavorato per la costruzione dei personaggi soprattutto per il personaggio di Michael Corleone che amo profondamente a cui ho fatto una dichiarazione d'amore stra potente all'interno della tesi sta di fatto che bellissimo il personaggio invece femminile cioè l'attore preferito l'attrice ce la posso fare preferita del mese è tutto il cast femminile chiaramente del club di Jane Austen perché sono troppo belle e sono troppo meravigliose tutte quante mi piacciono tantissimo c'è Maria Bello c'è Emily Blunt Amy Brennam c'è non mi viene in mente quella che fa Allegra come si chiama però ce la posso fare c'è Katie Baker insomma tutte bravissime e passiamo all'argomento telefilm wow come sono veloce questo mese aspetta adesso crollo sull'argomento telefilm cioè sull'argomento televisivo me lo sento allora serie preferita del mese come se non gli avessi fatto una dichiarazione d'amore già abbastanza forte nel video live che ho fatto con la Joe che se non l'avete visto al massimo me lo metto qua sotto ovviamente Musketeers che sono riuscita a seguire abbastanza in diretta con la BBC e questo ha creato dei gravissimi scompensi a livello del mio cervello ed è una film una serie che vi consiglio tantissimo di vedere se non l'avete ancora vista perché veramente ne vale la pena per adesso se siete soltanto in inglese dovete vederlo con i sottotitoli però non è neanche particolarmente difficile da capire senza sottotitoli in ogni caso guardatela perché se siete poi amanti dei romanzi di Duma non potete perdervela e sì non è uguale ai romanzi come ho già detto nel video però c'è tanto dei romanzi che magari all'apparenza non può sembrare però vi assicuro c'è tanto niente guardatela e basta miglior attore era miglior attore cioè sto andando a memoria io no miniserie del mese che io cretina non l'ho scritta sto adesso facendo una mente locale sì ho visto delle miniserie ma non mi sembra per cui vi dirò che no non ho visto miniserie io questo mese se volete considerare True Detective una miniserie è lei perché poi l'ho finita di vedere nel mese di marzo però non cioè no non ci sono miniserie scusate miglior attore del mese l'ha copiata Mads Mikkelsen e Hugh Dancy cioè se io ho pensato ai migliori attori purtroppo mi sono venuti in mente loro che forse vi ho già detto il mese scorso sta di fatto che stanno dando il loro meglio nella seconda serie di Hannibal sono veramente straordinari a me la come dire la svolta del personaggio che sta prendendo Will mi piace da morire cioè è veramente come se la tira potentemente adesso che è dietro le sbarre che lui come dire io su tutto ve lo sapete un cazzo siete gli ignoranti come delle capre adesso ve ne accorgerete che cosa succederà intanto io sto qua sono al sicuro ma vedrete Hannibal cosa vi combina ed è strapitoso loro due che poi quando fanno i loro duetti che è bellissimo perché io lo so che tu lo sai che io lo so cioè sono stupendi perché uno lo sa che l'altro è un assassino quell'altro fa finta c'è lo sai non lo sai ma sono strepitosi io cioè non potevano sceglierli meglio sinceramente il momento fuck yeah del mese siamo già arrivati al momento ah no siamo arrivati all'attrice Jessica l'attrice ti sei dimenticata l'attrice non avendo visto molto vi posso solo dire che l'attrice che mi è piaciuta veramente tanto ma forse tutte sono le tre protagoniste femminile di The Mosqueteers ovvero Memi McCoy Alexandra Dowling e ce la posso fare Tamla Kari che sono appunto Milady la regina Anna e Constance che sono bellissime e bravissime e mi piace perché hanno soprattutto per quanto riguarda il personaggio della regina Anna e di Constance gli hanno dato comunque una profondità che nel romanzo effettivamente non avevano più di tanto soprattutto Constance è quella che è cambiata di più rispetto al romanzo ma questa cosa le ha giovato tantissimo perché nel romanzo io Constance non la sopportavo mi è piaciuto molto la regina Anna perché è una quel controcoglione Milady l'ho sempre amata per cui non c'è niente da dire io l'ho sempre adorata anche nel libro ok che era una stronza però purtroppo l'ho sempre adorata follemente momento fuck yeah allora per non essere trita su sta cosa nei moschettiere perché sennò vi direi ci sono dei momenti nei moschettiere che effettivamente sono molto notevoli soprattutto da infilare nel momento fuck yeah soprattutto la scena finalmente quando dicono tutti per uno uno per tutti che lì mi è scattato proprio l'applauso ero da solo in camera mi è scattato l'applauso vi devo dire che è un momento che mi è piaciuto veramente tanto e lo so che questa serie è stata abbastanza abistrattata nel senso che c'è chi la odia follemente c'è chi invece la ama io la guardo tranquillamente perché alla fine mi diverte mi piace che è The Following però la scena in cui Joe Carroll raggiunge questa casa dove ci sono tutti i suoi adepti e via dice tutti i followers con questa musica sottofondo che tra l'altro è la sigla di Vikings io l'ho amata follemente quella scena cioè mi è piaciuta non a morire cioè lui arriva capito questi che lo guardano come se fosse arrivato il Papa e tutti lì capito è lui che arriva figo appunto a parte che lui è figo James Pure fa un figo insomma veramente spettacolosa momento Don't Cry allora cioè il momento Don't Cry serio è il momento Don't Cry quello invece più cacciarone il momento Don't Cry serio ve lo dico subito è purtroppo sto riguardando Heroes e per me il momento Don't Cry è il momento della morte di Isaac Mendes cioè già all'epoca io ci rimasi malissimo perché era un personaggio fighissimo con un potere strafighissimo Isaac Mendes cioè era quello il pittore quello che dipingeva il futuro quello tossico comunque che a me piaceva da morire mi è spiaciuto un casino che me l'hanno ammazzato entro la fine della prima serie tra l'altro qualche puntata prima della fine per cui ancora questa volta mi è dispiaciuto un'altra volta della morte balorda che fa cioè era un personaggio che per me poteva avere le potenzialità della madonna potevano anche e soprattutto in quella puntata risuscita Peter Petrelli che io odio profondamente da quando esiste il personaggio di Peter Petrelli e mora Isaac Mendes non c'è giustizia in questo mondo questo era un momento serio di Don't Cry il momento invece non serio è il Don't Cry è non piangere tutte le volte che la Vittoria Cucini apre bocca in Anna Carierina che io ho guardato per un motivo più legato diciamo alle ovaie più che agli ormoni dai non l'ho guardato perché mi interessasse particolarmente oddio che volevo guardarlo quando l'avevano fatto in televisione poi non so perché forse l'avevano fatto un giorno che io probabilmente avevo il corso in inglese per cui mi ero perso la prima puntata o mi dovevo perdere la seconda di conseguenza ho detto se va bene lo riguarderò nel futuro perché alla fine questi drammi della Rai in costume di solito li guardo non so perché mi piacciono i costumi e niente mi sono sforzata di vederlo ma ragazzi lei è ghiacciante poi ne parleremo meglio nel video delle serie tv ma cioè in sé la miniserie non è neanche brutta vi dirò ci sono state alcune cose che mi sono piaciute alcuni attori che sono veramente bravi però il fatto che abbia tifato o per Vronsky o per Carieni in tutto il tempo non so quanto la cosa andasse bene cioè io non vedevo l'ora che questa si buttasse sotto il treno o mi auguravo che qualcuno la prendesse per il collo e la strangolasse perché cazzo è una roba agghiacciante sentirla recitare perché lei ansima quando parli io sono una donna hai capito e devo amare no ti prego niente io vi saluto e ci vediamo prestissimo la settimana prossima per altri video c'ho il cane che abbaia perché mi sa che deve andare fuori a fare la pipì e per cui vi mando un bacio vi auguro buone letture e buona visione ciao ovviamente nella fretta ho dimenticato il pezzo citazione facchiea del romanzo per cui ve lo leggo adesso perché è veramente bellissimo ed è tratto da storia d'inverno erano entrambe donne innamorate di uomini che non esistevano e avevano in comune la rassegnata tristezza che deriva dai troppi sogni e desideri vi saluto ciao